Bisogna lavorare per costruire una vera cultura dell'incontro, che vinca la cultura dell'indifferenza guardando all'incontro di Dio con il suo popolo, e stare attenti alle cattive abitudini che anche in famiglia ci distolgono dall'ascolto dell'altro. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a casa Santa Marta, nella quale ha preso spunto dal Vangelo di oggi e dall'incontro di Gesù con la vedova che piange l'unico figlio morto. Se noi per strada vediamo una cosa triste, diciamo peccato. Gesù non ha detto povera donna, ma è andato vicino, le ha parlato e sicuramente quando le ha detto non piangere ha toccato la vedova con una carezza, perché fu preso da compassione. A tavola in famiglia, quante volte si mangia o si guarda la tv, o c'è con il telefonino e si fanno i messaggi ognuno, è indifferente a quell'incontro. Anche proprio nel nocciolo della società, che la famiglia non c'è l'incontro. che questo ci aiuti a lavorare per questa cultura dell'incontro, così semplicemente come l'ha fatto Gesù. Non solo vedere, guardare. Non solo sentire, ascoltare. Non solo incrociarsi, fermarsi. Non solo dire peccato, povera gente, ma lasciarsi prendere le compassioni. E poi avvicinarsi, toccare e dire nella lingua che ognuno le venga in quel momento, la lingua del cuore, non piangere. E dare almeno una goccia di vita. Grazie. Grazie.